Un momento di confronto organizzato da Lance, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili dell'Aquila, per far luce sull'entrata in vigore della patente appunti per l'edilizia il prossimo 1 ottobre, con relatori importanti e anche rappresentanti ministeriali. Una misura questa di prevenzione per gli incidenti nell'edilizia, ma anche per premiare quelle ditte che investono sulla sicurezza. Un meccanismo simile a quello delle patente appunti automobilistica, un provvedimento che riguarderà sia le imprese piccole che quelle più grandi. Lance per questo ha voluto attorno a un tavolo tutti i costruttori. Il presidente del Lance Gianni Frattale però ha alcuni dubbi perché a poco tempo dall'entrata in vigore alcune norme non sono molto chiare. Il confronto ha servito proprio a fare chiarezza, c'è incertezza, come spera che vengano compensati anche i maggiori costi. Perplessità non ce ne sono perché Lance L'Aquila è stata sempre presente e lo sarà per quello che riguarda non soltanto la sicurezza, le norme, le leggi, i decreti e l'ordinanza perché vanno rispettate. Una categoria non deve entrare mai in quello che è l'ordine dell'agenda di un rappresentante politico della politica stessa. Però questa stiamo sul finale e purtroppo ci sono delle incertezze. E noi abbiamo, come posso dire, pensato bene di invitare illustri relatori di grande spessore, ci sono anche rappresentanti ministeriali che hanno contribuito alla stessura di questa legge e oggi verranno chiarite tutte le perplessità riguardo alla normativa. Noi abbiamo pensato come il codice dei contratti pubblici di fare un volumetto ma non ci siamo riusciti perché non sono le norme chiare e non appena usciranno chi è in dotazione di questo facchessimile della patente potrà passare in Ange e ritirare questo volumetto a tempo debito quando verrà, diciamo, stampato. No, noi che cosa diciamo? Mancano 12 giorni? Partorite una legge che sia snella, chiara, ed attuabile perché gli imprenditori, i subappaltatori, le ditte specializzate la rispetteranno alla virgola. Ma se non c'è chiarezza si ingenera confusione, noi non chiediamo proroghe, non chiediamo alcunché, chiediamo che entro il primo di ottobre venga emanata una legge che ci permette di iniziare, aprire i candieri e lavorare in sicurezza. Grazie. 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 Grazie.